Venite a vedere dove è nato il festival corale più antico del mondo. Ma soprattutto è un'esperienza, soprattutto quella di musica sacra in una chiesa come questa, veramente mi sento di dire un'esperienza mistica, importante, che ti eleva. Alla prossima Questo è il concerto d'apertura. Il concerto d'apertura è partito da ieri perché il maestro che questa sera dirige il coro, che è Georg Grün, con il suo coro, che è il coro da camera di Saarbrücken, era a disposizione della scuola per direttore di coro per fare una masterclass su programma sacro tedesco, che in buona parte è quello che sentiremo questa sera durante il concerto. In questo concerto, in questa splendida chiesa di San Domenico si chiude una giornata intensa, c'è stato il concorso corale italiano, dopo il concerto ci saranno le premiazioni, ma intanto ci godiamo questa bellissima chiesa e soprattutto il concerto del Cammercore diretto dal maestro Grün.